Ciao a tutti, mi chiamo Silver Gecca, sono qui che sto studiando in Università degli Studi di Verona, ho studiato l'atrienale, ho fatto l'atrienale informatica e adesso mi sono iscritto nella magistrale per l'intelligenza artificiale. Allora, spiego un po' la mia esperienza durante il mio corso. L'esperienza è bellissima, ma piena di ostacoli. Riguarda che arrivare qua da un altro paese, di non avere nessuno che ti sostiene, nessun parente possiamo dire, è un po' difficile gestire le cose, ma questi ostacoli, possiamo dire, che voi passate in questa università, imparate tante cose che vi serviranno di essere individuali, possiamo dire. E questa è la bella cosa, perché infatti adesso imparate come vivere da soli, come gestire tutte le cose da soli. Un'altra cosa che è difficile qua per fare è la lingua, possiamo dire, riguarda che da noi, arrivando da un altro paese, qua è un po' più difficile parlare l'italiano in questo caso, ma c'è una bella cosa che l'università ti sostiene sempre. Quindi l'università ti offre diversi corsi delle lingue, in questo caso c'è anche la lingua italiana in mezzo, e quindi nella lingua italiana tu la puoi frequentare sia solo facendo l'iscrizione e pagare la tasso universitaria. E la bella cosa è che, cos'è? Tu non puoi frequentare solo una lingua, ma puoi fare più lingue, nel senso puoi fare spagnolo, inglese, tutte le altre lingue, e tutte queste lingue sono gratis. Quindi una bella cosa è questa dell'Università di Verona. Un'altra esperienza che a me mi ha fatto troppo imparare è tipo andare all'università ogni giorno, vedere come sono i corsi, avendo difficoltà. È normale che ogni volta che noi veniamo qui e facciamo una lezione avremo troppo difficoltà, diciamo. Ma come io ho fatto per questo ostacolo, come ho separato io questo ostacolo? Semplicemente ho lasciato un incontro con un professore, dipende da quale materia c'era, e sono andato da lui a parlare con lui e loro erano veramente gentili e ti spiegavano tutte le cose come tu li volevi. Anche se tu facevi fatica, loro provavano a spiegare sia in inglese, sia in italiano, e sia in qualche altra lingua se loro lo sanno. Quindi, cioè, io vi consiglio veramente tanto di provare l'Università degli Studi Verona.